È la calda notte del 15 agosto 2019, quando in Inghilterra due poliziotti stanno guidando su un'auto in borghese. Procedono in una strada molto stretta e piena di curve, quando all'improvviso spunta un'altra auto che sfreccia diretta verso di loro. Quindi entrambe inchiodano per evitare di schiantarsi e si fermano in tempo. Uno degli agenti esce dall'auto, mentre anche dall'altra macchina esce una persona. E quello che accadrà dopo sarà così atroce che hanno dovuto fare una legge apposta per evitare che capitasse di nuovo. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche oggi sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E vi consiglio di preparare il fegato perché nel file di oggi vi incazzerete tantissimo. Ecco, quella che vi racconterò oggi è una storia davvero ingiusta. Penso sinceramente che una cosa del genere non sarebbe mai dovuta capitare. Ma prima di arrivare alla parte in cui ci arrabbiamo, devo parlarvi di un ragazzo che si chiama come me, Andrew. Andrew Harper nasce il 22 marzo 1991. Cresce a Wallingford, un piccolo paesino di circa 6.000 abitanti vicino ad Oxford, in Inghilterra. Una volta cresciuto, frequenta l'Henley College, dove in lui nasce questa voglia fortissima e anche direi un'ambizione di entrare a far parte della polizia. Questo perché Andrew, fondamentalmente, è un ragazzo dal cuore d'oro. È alto un metro e novanta e sente la necessità di proteggere chiunque in qualsiasi momento. È quel tipo di persona a cui piace dare una mano in modo incondizionato. A prescindere da chi sei e cosa hai fatto, lui ti vuole aiutare. E gli piace proprio tenere in tranquillità e sotto controllo tutte le persone a lui vicine. Questa tendenza a proteggere tutti quanti, però, non viene mai descritta o definita come eccessiva o molesta. Anzi. Il suo carattere estremamente disponibile lo rende una persona unica, amorevole, simpatica e ovviamente anche altruista. Cioè, per molti, è come un santo. E ci vorrebbero molte più persone come lui, cavolo. Ma comunque, Andrew cresce in salute, in una famiglia amorevole e, in generale, in un buon contesto. È il classico ragazzo della porta accanto. Una persona di cui ci si può fidare, ma con cui ci si può anche divertire. E oltre a queste qualità, è anche un romanticone. All'età di soli 15 anni, infatti, conosce la donna della sua vita e se ne innamora follemente. Lei si chiama Lissi Beckett. E fin da ragazzini, i loro due, sentono che sono fatti per stare insieme. Si sentono in una di quelle relazioni perfette che si vedono solo nei film. E non sto esagerando, era davvero così. Comunque, passano gli anni e la loro relazione diventa sempre più forte e unita. Sono inseparabili, veramente. Tutto ciò, ovviamente, è molto bello anche per amici, familiari e conoscenti che li vedono crescere insieme, stare bene insieme, essere felici e tutte cose così. Lissi, poi, apprezza tantissimo i modi di Andrew perché sente che sono genuini e sinceri. Il ragazzo, infatti, è un tipo molto tranquillo e premuroso. Tanto che, se potesse, difenderebbe letteralmente chiunque su questa terra. La sua enorme stazza, poi, gli dà un po' quell'aria da gigante buono che infonde totali sicurezza e tranquillità in chiunque. Oltre a tutto questo, ha anche le idee molto precise sul suo futuro. Perché, come vi ho detto prima, è sicuro al 100% di voler diventare un poliziotto. E, infatti, all'età di soli 19 anni, nel 2010, entra a far parte della polizia della Thames Valley. Però non diventa subito un vero e proprio poliziotto, ma una sorta di agente speciale o qualcosa del genere. In altre parole, comincia a fare la gavetta da semplice volontario. Ma, cavolo, riesce a distinguersi decisamente in fretta. Sembra il Nato per questo lavoro e, per fortuna, moltissimi se ne rendono subito conto. Per cui, solo un anno dopo, quindi nel 2011, viene promosso ad agente di polizia regolare. Sempre della polizia di Thames Valley. Poco dopo, si fa un posto nella Force Abington Station. Una sorta di centro di comando di alto livello. Quindi, in pochissimo tempo, diventa già una figura piuttosto affermata nel suo campo. Ad ogni modo, passa del tempo e, tra gioie e dolori, lui e la sua amata Lissy prendono una decisione molto importante. Una decisione che, però, per molti era scontata e inevitabile. Ovvero, decidono di sposarsi. Il 18 luglio 2019, Andrew e Lissy si sposano felicemente. E programmano di partire per la luna di miele a metà agosto di quello stesso anno. Oltre a ciò, il nostro Andrew ottiene addirittura un'altra promozione. Cioè, sta vivendo un periodo veramente magnifico. E ora vi racconto un aneddoto che devo raccontarvi per forza perché è troppo carino. Praticamente, il giorno delle nozze, prima che Andrew vedesse la sposa, il ragazzo ha scritto una frase speciale in una sorta di fogliettino, in una bustina. Poi ha chiamato un suo amico e gli ha chiesto di consegnare questo fogliettino alla sua futura sposa. Così questo amico si fa tutto il corridoio e arriva alla stanza in cui c'è Lissy. Le consegna il biglietto, lei lo legge e praticamente si mette a piangere per la tenerezza. Era una frase molto semplice ma al tempo stesso molto profonda. Sul bigliettino c'era scritto Forse tradotta in italiano perde un po' di fascino, ma il senso della frase è che gli anni sono passati davvero in fretta e sembra che la vita sfugga un po' di mano quando si cresce. Quindi le dice sostanzialmente di aggrapparsi alla sua mano per affrontare lo scorrere della vita insieme, per darle supporto e in sostanza per aiutarla. Vedete che ritorna sempre la voglia di Andrew di proteggere e supportare. Ecco, Lissy, chiaramente, si emoziona tantissimo leggendo quelle parole e c'è addirittura una foto di lei mentre legge questa bustina. Quello lì è il loro grande giorno e tutto ovviamente va a gonfie vele, ce lo potevamo immaginare. Peccato che di lì a pochi mesi, prima che potessero partire per la luna di miele e prima che Andrew potesse realizzare davvero i suoi sogni, tutto sarebbe finito nel peggiore dei modi. Nella promozione che Andrew aveva appena ricevuto a lavoro, era compresa la responsabilità di dover rispondere a tutte le chiamate d'emergenza del suo dipartimento e ovviamente, a seconda del caso, sarebbe dovuto anche intervenire personalmente. Questa cosa in particolare, come potete immaginare, lo espone a molti nuovi pericoli, ma lui ormai è abituato ai pericoli e accetta questa promozione con molta felicità. Ricordiamoci che lui sente nelle vene la voglia di proteggere tutti, si sente come una sorta di supereroe. Peccato che non sa cosa lo attende. Ora quindi saltiamo a 28 giorni dopo il suo matrimonio. È il 15 agosto 2019 e manca poco alla luna di miele, ma Andrew deve ancora lavorare qualche giorno. Quel 15 agosto in particolare è insieme ad un collega che si chiama anche lui Andrew, oggi siamo tutti Andrew, però lui si chiama Andrew Shaw, quindi per evitare di confonderci lo chiameremo sempre con suo cognome, Shaw. Dunque, Andrew e Shaw quel giorno stanno sorvegliando le strade di una cittadina chiamata Reading, a circa 20-30 minuti da Willingford. Sono da poco passate le 23, quando i due decidono che è ora di tornare a casa, perché tanto non c'era più nulla da fare. In realtà il loro turno era già finito ben 4 ore prima, ma dato che sono super professionali e diligenti, hanno prolungato il turno per assicurarsi che fosse tutto a posto, tutto tranquillo. E infatti è stata una serata piuttosto tranquilla, nulla da segnalare, o almeno così credevano. Mentre si avviano verso nord per tornare a Willingford, arriva una chiamata d'emergenza in centrale. Un uomo aveva chiamato il 999, cioè il numero di emergenza inglese, per raccontare una cosa abbastanza preoccupante. Dice al centralino che ci sono tre persone strane nella sua proprietà. L'uomo vive in un posto piuttosto sperduto e da lì riesce a vedere subito se qualcuno si avvicina. Infatti questa persona spiega al telefono di aver visto una berlina grigia entrare direttamente nella sua proprietà. Poi da quell'auto sono usciti tre uomini mascherati e armati. E sono ancora lì mentre lui parla al telefono sottovoce davanti alla finestra. Mentre racconta quello che vede, improvvisamente dice che questi tre stanno rubando il suo quad rosso. Se non sapete cos'è un quad vi metto una foto. E ora magicamente lo sapete. Evidentemente questa persona teneva molto al suo quad perché appena vede cosa stanno facendo si incazza tantissimo. L'agente intanto dall'altro capo del telefono gli dice che sono già in arrivo dei poliziotti, ma l'uomo non ci vede più dalla rabbia. Dice all'agente che sta per uscire per riprendersi il quad da solo. E ovviamente lui gli urla di stare fermo, di non fare cazzate perché stanno arrivando i poliziotti. Esporsi a quel pericolo sarebbe stato da stupidi, ma ormai l'uomo non lo sta più ascoltando. Scende le scale, corre giù nel cortile, ma per sua fortuna è troppo tardi. Perché i tre uomini, la loro auto e il quad rosso sono spariti. Sconfitto ritorna in casa e riprende il telefono. Spiega che non c'è più nessuno e ancora una volta l'agente gli dice di restare fermo in casa, di aspettare la polizia e di non fare niente di avventato. Ecco, la situazione è abbastanza pericolosa, quindi viene diffuso un avviso di cattura per questi ladri e vengono avvisati tutti i poliziotti che erano ancora in giro, Andrew compreso. Spiegano che i tizi da cercare sono tre, sono mascherati, armati, a bordo di una berlina grigia e con un quad rosso rubato. Andrew e Shaw in tutto ciò stavano già per tornare a casa quando nella loro volante arriva questo comunicato di cattura. Entrambi però sono consapevoli che non sono gli unici poliziotti in servizio quella sera. Sanno che anche altri loro colleghi stanno ricevendo questa chiamata e sanno che il loro turno di lavoro è già finito da quattro ore, non sono più obbligati legalmente ad intervenire. Ma figuratevi, Andrew vuole intervenire, vuole fare il suo dovere, come ha sempre fatto da quando è entrato in polizia. Anche il suo collega Shaw la pensa così, quindi se ne fregano se hanno lavorato quattro ore in più. Il dovere è dovere. Appena sentono l'ordine lasciano perdere il loro rientro a casa e cominciano a sfrecciare tra quelle strade strette. Ora si trovano su una strada di campagna molto stretta che si chiama A4 e a quanto pare calcolano che i fuggitivi sarebbero per forza passati di lì e quando sarebbero passati li avrebbero bloccato quell'unica via di fuga. Ma pensano anche che se questi tre sono pericolosi e armati è probabile che non si sarebbero fermati per un semplice posto di blocco. Anzi, probabilmente si sarebbero schiantati pur di passare avanti e schivare la polizia. Andrew e Shaw quindi capiscono in fretta che se stanno seduti lì in auto ad aspettare possono anche perdere la vita perché quei criminali si sarebbero schiantati contro di loro ovviamente. Quindi procedono per la stradina stando in mezzo alla carreggiata e bloccando di fatto qualsiasi macchina sarebbe arrivata dall'altra direzione. Sanno che prima o poi sta macchina con dentro tre criminali sarebbe arrivata dritta verso di loro. Ma dalle riprese delle loro dashcam si percepisce la loro calma. Non si fanno prendere dal panico. Perciò nel totale buio della notte, in quella minuscola stradina di campagna, la dashcam riprende delle luci in lontananza. Un'auto sta arrivando nella loro direzione. Non so se potrò mettere i filmati delle dashcam, in teoria sì e se così fosse vedrete tutto quello che sto per dirvi. La macchina che sta arrivando è proprio quella dei tre ladri armati, la berlina grigia. Le due auto quindi si stanno venendo incontro e appena arrivano a pochi metri l'una dall'altra entrambe inchiodano. C'è da specificare che Andrew e Shaw si trovano in un'auto in borghese quindi non c'è scritto polizia ovunque o cose simili. Per evitare di destare i sospetti, non accendono neanche la piccola lucina blu della polizia. Così era molto più probabile che i ladri si sarebbero fermati. E infatti così è stato. Le due auto, una di fronte all'altra, sono illuminate solo dai rispettivi fari. Andrew e Shaw quindi riconoscono subito la berlina grigia che ha pure un quad rosso rimorchiato dietro. Per cui non c'è dubbio, sono loro. Solo a questo punto accendono la lucina blu, scendono dalla macchina e intimano i ladri di rimanere fermi. Ma questi non ascoltano. Sono completamente colti alla sprovvista. Hanno la polizia davanti e sanno che presto sarebbero stati arrestati. Per questo motivo, nella loro goffa disperazione, fanno delle scelte azzardate e pericolosissime. Tanto per cominciare, uno di loro scende velocemente dal veicolo e sgancia il quad. Contemporaneamente, gli altri tizi all'interno dell'auto ripartono senza neanche dare il tempo al complice di risalire nella vettura. Quindi schivano la volante della polizia passando per il prato a lato della strada. Perché vi ricordo che la stradina era stretta e l'auto della polizia la stava bloccando praticamente tutta. La stava occupando tutta. Quindi la loro unica via d'uscita era passare per i campi e poi ritornare nella stradina. E fanno proprio così. Chiaramente sono disposti a tutto pur di non essere catturati. Intanto il complice che avevano lasciato lì a piedi scappa correndo aggirando a sua volta l'auto della polizia però lui passa dalla parte opposta. Gli altri due scappano con la macchina così e lui, l'altro a piedi, scappa così. Aggirando l'auto di Andrew e Shaw. In sostanza cercano di scappare in tutti i modi. E la cosa interessante è che la macchina dei ladri sviando nel fosso e nei campi effettivamente riesce a rimettersi in quella stradina e a scavalcare così il posto di blocco. In tutto ciò c'è il terzo ladro che corre come un disperato e cerca di raggiungere i suoi compagni e sembra un po' una situazione che fa quasi ridere perché sono molto goffi a fare tutto ciò. Andrew però non vuole farsi sfuggire l'occasione di arrestare almeno uno di loro. Così comincia a correre anche lui per fermare il terzo ladro. Il collega a Shaw, in tutto ciò, torna in macchina e spinge con la retromarcia. Ed è in questo momento particolare mentre tutto ciò sta avvenendo in contemporanea che succede qualcosa di strano, quasi illogico. Il terzo ladro, quello che scappava a piedi, ad un certo punto salta con tutte le sue forze per cercare di raggiungere l'auto dei suoi compagni. E mentre fa questo slancio enorme, Andrew si lancia a sua volta e riesce ad afferrarlo. Intanto, Shaw, che ancora sta andando in retromarcia, vede letteralmente sparire il suo collega Andrew e anche il terzo ladro. Riesce solo a vedere l'auto dei criminali che sfreccia a tutta velocità. Non crede ai suoi occhi e si chiede cosa cavolo fosse successo. L'unica cosa che può fare in quel momento è continuare a guidare in retromarcia fino ad una svolta. Così avrebbe potuto fare inversione, fare manovra e partire spedito all'inseguimento. Prima di fare tutto questo, però, dalla dashcam, si sente che qualche collega ignoto chiede a Shaw cosa fosse successo, credo tramite la radio della polizia. E lui risponde che ha perso il suo collega e che deve trovarlo a tutti i costi. Così parte al disperato inseguimento, ma è del tutto confuso. Anzi, nella sua testa c'è letteralmente il caos. Il povero Shaw si trova ora in una guida disperata in quella strada completamente buia. Ha le luci blu accese e guida per un po' alla ricerca dei criminali e del suo collega Andrew. Ma avverte qualcosa di strano. Non si sente nessuno in giro. Nessun altro rumore che non provenga da lui o dalla sua auto. Attorno a lui c'è solo il silenzio della notte. Quindi l'ansia cresce e non sa che cosa fare perché non sa spiegarsi che cosa è successo. Pensa che magari avrà visto male perché sa che due persone non possono sparire così magicamente nel nulla. Dove cavolo è finito Andrew? E l'auto dei criminali? Sembra che non ci siano risposte a queste sue domande. Eppure guidando tra quelle vie isolate nota per terra degli oggetti di Andrew. C'è il suo portafoglio, il suo cellulare, la sua patente e la carta di identità. Poi nota un guanto e un pezzo di plastica. Insomma, tanti piccoli indizi di Andrew sparsi qua e là come in una sorta di scia. Poco dopo, Shaw si ferma improvvisamente perché sul ciglio destro di quella strada alberata vede il giubbotto mal ridotto di Andrew. Quindi scende dalla macchina, recupera il giubbotto e ancora una volta non vede niente e non sente nessuno in giro. Per cui torna al volante, mette da parte il giubbotto e riparte. Alla radio intanto altri colleghi gli chiedono spiegazioni e Shaw spiega a grandi linee quello che è successo. Ma fa capire a tutti di essere davvero molto preoccupato e soprattutto molto molto confuso. Questa situazione non era normale. Così continua a guidare nella speranza di trovare Andrew. Probabilmente si aspetta di sentire le sue urla o crede che da un momento all'altro lo avrebbe visto correre verso di lui. Magari avendo arrestato quei criminali. Ma non succede niente di tutto questo. Intanto, all'ingresso di questa stretta via alberata si piazzano altri due volanti della polizia che dall'oscurità della stradina A4, sempre la stessa stradina in cui si è svolto tutto, vedono dei fari avvicinarsi a grande velocità. Ma non è Shaw. Sono i ladri della berlina grigia. E non rallentano affatto, anzi svoltano, riescono a schivare quelle due volanti appostate e riprendono la fuga in una strada più trafficata. Una delle due auto degli agenti parte subito al suo inseguimento. L'altra invece rimane appostata lì. E probabilmente adesso vi starete chiedendo perché non li ha seguiti anche l'altra auto. E avete ragione a chiedervelo, ma devo dirvi che la risposta è decisamente triste e sconcertante. Ecco, la gente nell'altra auto nota che per terra in quell'incrocio c'è il corpo senza vita di Andrew Harper. Ma per capire come cavolo sia finito lì, in quelle condizioni, dobbiamo fare un piccolo salto indietro. Ritorniamo al momento in cui Andrew stava inseguendo il terzo ladro, quello che correva per raggiungere la berlina con i suoi compagni. Ecco, in quel momento il ladro ha fatto un balzo per aggrapparsi alla berlina in movimento. E in effetti ci è riuscito, ha raggiunto i suoi complici. Ma se vi ricordate, Andrew gli stava dietro ed è saltato pure lui. Ed è in questo momento che Shaw, il suo collega, l'ha perso di vista. E se non l'ha più visto, c'è un motivo. Allora, i tre ladri avevano una corda all'altezza del cofano della macchina, quella che avevano usato per agganciare il quadrubato. Ecco, quando il terzo ladro è saltato per entrare in auto, è riuscito ad entrare dal finestrino posteriore. E ci è riuscito solo perché l'auto si era fermata per mezzo secondo. Giusto il tempo di permettergli di salire lì. Ma Andrew gli stava molto vicino e con il suo salto è finito per atterrare sulla corda, che intanto si era tipo tutta attorcigliata e aveva formato un cerchio. E se a questo punto state pensando al peggio, avete ragione. Perché una volta che il ragazzo si è trovato sulla corda attorcigliata, l'auto ha accelerato al massimo per fuggire. E il povero Andrew è rimasto legato a quella corda, che si era stretta tantissimo intorno a lui a causa della velocità con cui era partita la macchina. E da quel momento è stato trascinato per più di un chilometro in quella via alberata e sterrata, naturalmente procurandosi tantissime ferite. Shaw non l'ha visto sentito perché Andrew era caduto per terra e si era ferito gravemente alla testa perdendo i sensi. Era svenuto. Ecco perché non ha urlato. E una volta che la berlina ha svoltato in quell'incrocio con le auto della polizia appostate, il corpo di Andrew è scivolato e si è liberato dalla corda ed è rimasto lì per terra, davanti agli occhi increduli degli altri agenti. Ormai Andrew era chiaramente privo di vita. Le lesioni erano talmente tante e talmente gravi da averlo ucciso. Era stato trascinato a tutta velocità in quella stradina buia. Ecco perché i suoi oggetti erano tutti sparsi in giro. Agli occhi di tutti quello che è accaduto non ha senso. Ora, mi piacerebbe dirvi che alla fine la giustizia ha fatto il suo corso e mi piacerebbe anche dirvi che Andrew in realtà non è morto ma è solo molto grave in ospedale. Purtroppo però adesso arriviamo alla parte più ingiusta di questa storia, la parte che vi farà incazzare. Innanzitutto i tre ladri vengono individuati con un elicottero e arrestati. Poi, in operazioni separate, a mezzanotte 50 del 16 agosto la polizia fa un casino. Nel senso che arresta un ragazzo di 18 anni e un ragazzo di 17. Poi arresta un altro ragazzo di 20 anni e successivamente anche un altro ragazzo di 17. I media riferiscono che in totale sono stati arrestati 10 uomini di età compresa tra i 13 e i 30 anni. Il 19 agosto il ventenne arrestato viene addirittura accusato di omicidio ma per un delitto che non c'entra niente col caso di cui stiamo parlando. Diciamo che in quei giorni la polizia ha fatto davvero piazza pulita probabilmente anche perché erano tutti scossi dalla morte di Andrew ma di tutte queste persone chiaramente dobbiamo focalizzarci sui tre ladri del quad. In quei giorni nonostante i vari arresti non si parla d'altro. I tre che quella notte erano nella berlina grigia sono il 18enne Henry Long e i 17enni Albert Bowers e Jesse Cole. Non era la prima volta che rubavano anzi erano proprio una sorta di gruppo unito di ladruncoli senza un vero obiettivo. Erano molto goffi e facevano un po' quello che volevano senza molti schemi. Ma ora dovranno pagarne le conseguenze in teoria. Infatti il 18 settembre del 2019 vengono accusati di omicidio mentre un quarto ragazzo del gruppo un 21enne di Buzzingstock viene accusato di cospirazione per il furto del quad e successivamente si dichiarerà colpevole di questa accusa. Ma insomma passiamo al punto che più ci interessa. Il processo per omicidio è presieduto dal giudice Andrew Edis tutti Andrew oggi e comincia all'Old Bailey a Londra il 10 marzo del 2020. Albert e Jesse i 17enni quindi entrambi minorenni al momento del reato sono protetti da una sorta di legge che di base dà loro dei benefici. Loro due come anche il quarto si dichiarano colpevoli per il furto del quad ma innocenti per l'omicidio colposo. Henry Longhi invece il maggiorenne che guidava la berlina grigia quella sera aveva precedentemente ammesso l'omicidio colposo e il furto del quad ma poi in aula nega tutto e si dichiara innocente come gli altri suoi complici. E vabbè da quel momento il processo per quanto fosse seguito e pieno di persone indignate subisce tantissimi ritardi sia a causa di problemi con la giuria che anche a causa della pandemia chiaramente. Quindi dopo altri vari casini legali alla fine Henry Long il maggiorenne viene condannato a 16 anni di reclusione mentre Albert e Jesse a 13 anni ma ovviamente nessuno di loro vuole assumersi le responsabilità di ciò che ha fatto così fanno appelli su appelli per diminuire o addirittura annullare completamente le loro condanne e nonostante ci fossero state delle richieste respinte qualche anno di galera se lo beccano sempre 16 e 13 ma nulla di paragonabile a ciò che immaginavano i parenti della vittima per i familiari di Andrew questa è una vera ingiustizia ma non sono i soli a ritenere che tutta questa faccenda sia un'assurdità infatti al funerale di Andrew si sono presentate circa 800 persone poi il 27 ottobre 2019 5000 motociclisti hanno preso parte ad una corsa del rispetto tra virgolette una sorta di omaggio per Andrew e il 28 gennaio 2020 il defunto ha ricevuto un premio postumo dalla federazione di polizia di Inghilterra e Galles tutti gli volevano bene tantissime persone sono dalla sua parte e pretendono giustizia a grande voce per molti è impossibile che questi tre ragazzi non scontino una pena adeguata e infatti per fortuna qualcosa succede nell'agosto 2020 Lissi ormai vedova lancia una campagna per una nuova legge questa nuova legge richiederebbe l'ergastolo per i criminali le cui azioni provocano la morte di qualsiasi agente di polizia ma anche agenti carcerari vigili del fuoco infermieri medici e paramedici invece la madre di Andrew lancia una campagna per richiedere che gli assassini di agenti di polizia ricevano una pena detentiva di minimo 20 anni e così il 24 novembre 2021 il ministero della giustizia annuncia che avrebbe introdotto la legge Harper un disegno di legge che devo leggervi perché non posso dirlo in altre parole questa legge cito estende l'ergastolo obbligatorio a chiunque commetta l'omicidio colposo di un operatore di emergenza in servizio inclusi polizia agenti penitenziari vigili del fuoco paramedici mentre compie un altro reato a meno che non sussistano circostanze veramente eccezionali in sostanza se stai compiando un crimine e le tue azioni provocano la morte di una persona che appartiene ad una di queste categorie allora verrai condannato per forza all'ergastolo la legge Harper viene aggiunta al libro degli statuti il 28 aprile 2022 come parte del Police Crime Sentencing and Courts Act 2022 ed è tuttora in vigore sia il ministro dell'interno Pretty Patel che il segretario alla giustizia Dominic Raab hanno attribuito alla vedova Lissi il merito di averli convinti ad approvare questa nuova legge e non è certo una cosa da poco eppure mi tocca dirvi che la legge Harper non ha influenzato le condanne dei tre ragazzi chiaramente non è una legge retroattiva per cui quei tre criminali comunque non pagheranno mai a sufficienza per le loro azioni o almeno non come volevano i familiari anzi probabilmente tra qualche anno usciranno dal carcere per buona condotta vabbè questa è una mia supposizione dipende anche da come si comporteranno loro ma fatto sta che Andrew ormai non c'è più e la sua tragica fine senza senso lascia semplicemente senza parole io sinceramente sono rimasto spiazzato perché era tutto evitabile in migliaia di modi Andrew sarebbe dovuto essere a casa quella sera perché aveva finito il suo turno da quattro ore ma per dovere verso il suo distintivo ha scelto di rimanere senza sapere che gli sarebbe costato la vita è proprio vero che sono sempre i migliori ad andarsene sono senza parole mi fa troppo incazzare che sia morto così senza motivo e mi fanno ancora più incazzare queste foto dei colpevoli guardate questo è Albert Bowers che sorride ride e fa le linguacce mentre gli viene ridotta la pena sempre lui ha dichiarato che in poco tempo sarà fuori di prigione e ha mostrato davvero una mancanza di rispetto che fa vomitare non ho davvero parole ditemi cosa ne pensate perché sinceramente io ho finito basta mi sto incazzando di nuovo intanto per i pochi che rimangono fino a qui anticipo che prestissimo parleremo di una persona orribile che in casa sua ha fatto un casino che nemmeno immaginate e gli piaceva farsi chiamare col nome di un demone ho detto già troppo quindi spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare i pulsanti iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento a questo venerdì con un altro file ciao